Ciao cari, allora la barzelletta che vi sto per raccontare è una barzelletta in napoletano quindi chiedo scusa anticipatamente a tutti i napoletani perché purtroppo il mio non è un ottimo napoletano però insomma cercherò di fare del mio meglio saluto per l'occasione i miei amici di Napoli e specialmente il mio amico Massimo ciao Massimo, un bacio grande, spero che stai bene insomma c'è sta signora napoletana che aspetta tre bambini in grembo e quindi è molto superstiziosa e intende sapere qualcosa di questi bambini in anticipo e quindi si rega da una nota cartomante di Napoli quindi va da questa cartomante e gli dice senta signora io tengo da sapere qualcosa sul futuro di questi tre guaglioni che tengo dentro il grembo quindi lei mi deve dare delle notizie io ho bisogno di sapere quale sarà il futuro di questi guaglioni sì signora lei non si deve preoccupare lo sa che io sono una grande cartomante insomma sta cartomante mette le mani sul grembo di questa signora tocca la prima testina e fa ecco il primo guaglione ecco il primo guaglione e chi sarà il primo guaglione? mi dica il primo guaglione sarà un noto ingegnere ah ma è vero è un noto ingegnere e che bella notizia che mi ha dato senta ma il secondo guaglione invece è il secondo guaglione aspetti un attimo che ha già tastato la situazione insomma rimette le mani sul grembo della signora tocca la seconda testina e dice alla signora ah eccolo qua il secondo guaglione allora il secondo guaglione sarà un noto e famosissimo pittore che diventerà molto ricco e famoso in tutto il mondo questa signora ah wow mamma mia che orgoglio questi guaglioni miei senta ma il terzo guaglione invece chi sarà? la cartomante eh un attimo signora allora il terzo guaglione insomma rimette le mani sul grembo di questa signora tocca la terza testina e dice eh allora il terzo guaglione sarà un cantante neomelodico e sta mamma dice eh ma scusi eh signora cartomante ma il primo sarà un noto ingegnere il secondo è un pittore famoso e il terzo è un cantante neomelodico e perché scusi così più in basso delle altre due e no io non lo voglio il terzo guaglione lo voglio eliminare e la cartomante eh signora però eliminarlo non sarà una cosa facile quindi serviranno altri soldi e sta signora napoletana eh sì e va buono eh ha già pagato ha già pagato ancora di più eh basta che eliminiamo il terzo guaglione insomma la cartomante ah va buono allora altri diecimila euro e elimineremo il terzo guaglione ah grazie signora cartomante grazie lei mi ha proprio ringuorato insomma gli da altri soldi la cartomante rimette eh la mano sul grembo eh della signora incinta tocca eh la testina del terzo eh bambino prende un martelletto e ssh tac se sente una voce da dentro al grembo è morto frate muovettoro è morto è morto è morto è morto è morto Grazie.